Ciao ragazzi e benvenuti nel mio nuovo appuntamento di questa settimana siamo tornati, torniamo da Parigi, torniamo da una settimana un po' impegnata e torniamo ovviamente con, non è che sono proprio così contento adesso lo capirete anche perché, torniamo con il post partita della, purtroppo, serataccia di ieri non ci sarebbero tante parole da dire, infatti il mio video durerà poco proprio perché sarà un video, chiamiamolo così, contestazione e perché ieri mi aspettavo un salto di qualità e non voglio usare salto di qualità come termine classico che si dice ogni anno ma mi aspettavo che, visto quello che potevamo reaccimolare nelle partite precedenti e non l'abbiamo fatto, dimostrassimo la nostra qualità in una partita che comunque sulla carta si definiva difficile perché avevamo di fronte comunque un iter più forte di noi quindi comincerei e anzi prenderei spunto dalla contestazione che è stata espressa dalla curva che sottolinea e sintetizza quello che vorrei dire io oggi e ovviamente vi dico già subito che per me oggi incazzato e lo ero molto ieri sera e lo rimango tutt'oggi e quindi le pagelle non ci saranno anche perché ritengo, senza che mi vengano a criticare altri personaggi o tifosi che ovviamente anche commentano le partite penso che insomma ci sia una posizione comune con questo quindi io ieri, lo dico sinceramente non ho visto nessuno che potesse meritare la sufficienza ho visto tante pagelle ho visto vuoti dati alla vanvera anche sufficienze dove io purtroppo ieri non ho visto anche perché non abbiamo mai superato la metà campo avevamo buchi da poter attaccare in contropiede dato che l'Inter ha attaccato per 93 minuti i più di tre di recupero in cui poi ci ha anche segnato non abbiamo avuto coraggio nell'attaccare non abbiamo mai portato pericoli se non qualche tiro assolutamente velitario nel primo tempo un gol annullato che ci ha fatto un po' come dire, saltare sul divano perché fino a quel momento là sembravamo dei morti poi lasciano stare l'ultimo quarto d'ora i cambi soprattutto che adesso diremo comunque a parte questo non merita nessuno di prendersi una valutazione neppure ovviamente dall'allenatore detto questo vi parlo della contestazione il responsabile cui appunto io ci tengo a specificare della curva sud e che appunto condivido scrive i derby si giocano si lotta, si combatte, si sputa sangue e poi magari si possono anche perdere ne ricordo tanti nella mia vita da tifoso che abbiamo perso però cosa c'è scritto qui si lotta e si combatte quello che ieri sera non è successo e questa cosa qua continua di anno in anno vuol dire che c'è un problema di fondo perché è da otto anni che anche soprattutto in casa dell'Inter perdiamo derby due anni fa lo pareggiamo all'ultimo con un gol con la goal line technology o comunque in realtà abbiamo questi periodi abbiamo queste partite questa mancata continuità questo mancato coraggio nel mettere in mostra le nostre qualità di squadra e soprattutto in partite così importanti così che toccano il popolo rosso-nero e anche me come tifoso non da curva ma tifoso del Milan tifoso critico e normale del Milan ci vuole anche il combattimento perché se no non si va da nessuna parte non solo nel calcio ma anche in altri ambiti della vita comunque andiamo avanti lasciamo stare con questa disgressione e poi magari si possono anche perdere ieri il nulla vergognatevi tutti dice il responsabile della curva sud da chi scende in campo a chi vi mette in campo a chi permette che tutti voi abbiate questa testa in partita del genere non ci sono scuse abbiamo rispetto dei tifosi di tutti quelli abbiate, perdono rispetto dei tifosi di tutti quelli che giorni prima non dormono per la tensione di tutti quelli che si fanno in quattro per realizzare coreografie per darvi la carica ripeto, coreografia assolutamente eccezionale da parte di entrambe le curve ma soprattutto ovviamente essendo tifoso del Milan quella appunto dei nostri tifosi tutti quelli che si fanno in quattro per realizzare appunto coreografie e per darvi la carica gli stessi che ieri cantano per 90 minuti e oggi sono letteralmente senza voce certo perché chi ama il Milan il suo lo fa sempre a prescindere il suo lo fa sempre a prescindere il milanismo ecco qui la parola chiave vi manca ma probabilmente chiediamo valori che di questi giorni sono solo sogni cioè invece di fare tante menate e di raccontare sui social che arriviamo al derby che siamo tutti carichi soprattutto da parte di chi si allena tutta la settimana e di chi dovrebbe essere pronto per realizzare del genere diciamo che è finita il periodo di questi in realtà sogni o comunque incitamenti che poi nel concreto nella pratica non si realizzano visto appunto la parte di ieri questo è il duro comunicato che c'è stato da parte della cura io ripeto lo condivido in maniera assolutamente estrema quindi direi ieri sera sono mancate tre cose il milanismo che lasciamo stare cosa si può intendere per il fenomeno del milanismo insomma ho visto tanti anni di Milan tante veri del Milan e ne so qualcosa quello si parla sempre e lo vorrei tralasciare il problema dei cambi che ieri sera sono stati assolutamente sconvolgenti per la tipologia dei problemi che potevamo avere e che abbiamo avuto nella partita di ieri soprattutto nel secondo tempo mettere un cutrone che al di là della grinta che ci mette sempre non ha dato quello che poteva dare perché era sbagliato il cambio sostanzialmente bisognava secondo me rinforzare soprattutto le corsie esterne e dare più spinta più come dire Voodoo Jack non ha giocato assolutamente bene un po' di più di coraggio di velocità di cercare di contrastare e almeno di far capire che qualche impegno da parte dei gacciatori si poteva si poteva intravedere diciamo così quindi abbiamo sbagliato in primis cutrone ma non posso dargli colpe abbiamo sbagliato il cambio di Baccayoko perché lasciamo stare Baccayoko perché si cambio assolutamente inutile non so con quale criterio con quale significato però vabbè il cambio di Abate al novantesimo mi ha fatto strisciare per terra come non mai quindi diciamo cambi sbagliati Gattuso comincia a farmi un po' incazzare ma abbastanza progressivamente e gradualmente e direi che con questo e con il comunicato della curva sia chiaro il mio intento del mio video di oggi cioè questo io non dico altro lo chiudo qui come vi ho detto sarà una cosa molto breve non parlo della partita perché non c'è da parlare della partita c'è da parlare di un Inter 1-1-0 gol di Cardi e soprattutto ecco cosa mi ero dimenticato della assolutamente prova incolore ancora una volta del nostro portiere che purtroppo lo devo dire non è in grado di affrontare partite come queste tanti errori passaggi all'indietro lui che gioca con la palla si vede che non è tranquillo si vede che non sa nemmeno a chi dare la palla in più addirittura esce assolutamente a pesci a farfalle a mosche ed ha i Cardi anche l'anno scorso ha rischiato di prendere lo stesso gol al ritorno e i Cardi a porta vuota sbagliò a prendere appunto i Cardi il gol della vittoria dell'Inter quindi manca il mianismo ma soprattutto manca che cosa manca il coraggio e direi che per i titoli di oggi è giusto che questi 11 giocatori questa squadra si prenda un bel inguardabili o meglio come dire inguardabili ci sta assolutamente grazie per l'attenzione ragazzi siamo ritornati quindi da questa settimana si comincia con i post partita con le rassegne con i vari approfondimenti vi ho anche salutato da Instagram da Parigi spero che vi sia piaciuto per chi ha visto e per chi no lo rifarò in altre occasioni in cui non sono nella sede delle dirette vi saluto e vi ringrazio per l'ascolto mettete vi piace condividete fate il brigate vedete il video e ditemi cosa ne pensate quindi Forza Milan comunque anche nella profonda delusione e ci vediamo a venerdì per il post partita di Europa League di Milan-Betis Real-Betis a San Siro ora mi pare di 19 se non sbaglio comunque questo è il comunicato e con questo ci vediamo ciao grazie a tutti a qui a qui a qui suoi